Una nuova iniziativa, un incontro per tre giornate organizzate dalla Fondazione Carifano in modo particolare per i giovani ed è significativo che il nuovo mandato del Presidente Gragnola si ricolleghi a tutto un trascorso che è stato fatto in favore per i giovani con un collegamento diretto ai loro interessi. Presidente Generazione Futuro, qual è lo scopo di questa iniziativa e di che cosa si tratta? Generazione Futuro è un momento che segue l'iniziativa dell'anno scorso in occasione del trentennale della Fondazione, tutto dedicato ai giovani, quest'anno che punta la sua attività sul digitale, sullo storytelling con tre ospiti d'eccezione, che verrà realizzato qui a Palazzo Bracci Pagani nei giorni di 16, 17 e 18 giugno. Interesse per i giovani ma interesse anche per la nuova forma di espressione nei confronti dei giovani. Ecco, qual è il linguaggio che viene assunto con questa iniziativa? Beh, dovrebbe essere un'occasione per parlare appunto di digitale, per parlare di storytelling, per parlare di temi che sono assolutamente attuali. Il digitale è una frontiera sulla quale ci siamo appena incamminati. Le statistiche dicono che il 64% degli italiani è privo di qualsiasi cognizione digitale, quando invece oggi, per fare qualsiasi attività, anche la più banale, con la pubblica amministrazione, occorre avere quelle cognizioni di digitale che sono per lo più una prerogativa dei giovani. Quindi, tanto più i giovani sono interessati, ma non soltanto i giovani. E lo storytelling è un altro modo per comunicare quello che si fa, perché non è sufficiente nel nostro, nel mondo contemporaneo, fare le cose. Non è sufficiente farle in modo adeguato, ma è necessario anche comunicarle, perché dalla comunicazione di quello che si fa e di come lo si fa, possono soprattutto le giovani generazioni avere degli stimoli per programmare, per progettare, per proporre. E la Fondazione è qui anche per questo. Quali sono i personaggi che interverranno a Generazione Futuro e soprattutto quali sono gli argomenti che verranno affrontati? Marizzo Merluzzo, Cecilia Sala, Federico Buffa. Sono questi gli ospiti per la seconda edizione di Generazione Futuro, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno alla Corte del Nespolo, qui a Palazzo Bracci Pagani. Per questa seconda edizione abbiamo voluto concentrare l'indagine e la ricerca sul digital e lo storytelling, due temi particolarmente attuali che inquadrano quelle che sono le necessità, ma soprattutto le curiosità, nel mondo giovanile. Generazione Futuro Festival non è un evento, bensì a noi piace chiamarlo una prospettiva che mette insieme più punti di vista. Quello della Fondazione con l'aderenza ai valori del territorio e dall'altro la ricerca e la continua curiosità per capire come la nostra società sta cambiando e che tipo di metamorfosi ci sta riguardando in prima persona. Quindi anche gli ospiti di caratura nazionale, possiamo dirlo anche internazionale, si confronteranno con il nostro pubblico giovanile proprio per inquadrare quello che è una sorta di contaminazione, di confronto e di apertura al dialogo sempre più ricercata e necessaria. Grazie a tutti!